L'articolo dell'articolo Viva la storia e il popolo ha toccato! E' un po' di poche merda e troppo merda. Il pezzo ha bisogno di mangiare i stocci? Ah, i stocci? No, i stocci randano. La successa pezzo con la successa pezzo con la punta dura. E' un po' di poche merda, e poi il poche collato con la balsamela in fuori. Anche il poche. E come si fanno stasera? Stasera si fanno in due mani. Freddo e poi dopo si fanno in uomo. Insomma, non lo so stasera. Non lo so, non lo so. Però le verdure. Le verdure non si fanno niente. Certo, freddo e in uomo. Allora, il poche merda. Poi ci sono i miei tagli. La sfilaccia e la pulite. Poi ci sono i miei limon per il vento. Qui abbiamo la sivola, la sfilola e la sfilola in corsa. Per fare il freddo. Qui abbiamo l'olio d'oliva. Qui abbiamo anche un po' di olio d'oliva. Qui abbiamo anche un po' di teneci strotto. Qui abbiamo l'olio d'oliva per i cerdi. Qui abbiamo un po' di farina per i cerdi. Qui abbiamo la nostra conserva fatta in cacca. La buona. E la sfilola da salere. Il cerdino vuole boire per un po'. In modo che si inti pressa. E poi... Prende boire. Ti ti hai capito una volta. Se andai a comprare, le vendette non è. Per fare il cerdino, bisogna spugliare. Spugliare. Foglia per foglia. Custa per costa. Tagliarla. E poi dopo spugliarla. Questo vuol dire? Vuol dire che avere tutti i fili che si tratta fuori. Poi guardate. Questo faccio. E tiriamo tutti spugliare. Prima i due. Alla scantonella. E poi dopo c'è. Di un po'. E tiriamo i fili. Guardate? Come viene più bene. Anche dopo le tante. Dopo le tante. Perché questi qui in bocca. Spugliare. Prendete. Per un legame. Dopo. E dopo che fai. E dopo che fai. E dopo che fai. Di un po' di limon. Perché se c'è. Noi c'è. Ma si tratta. E poi. Ma si tratta. Allora. Ma l'hai presa. Ma l'hai preso un bel bagno. Ma l'hai preso. Non ho freddo. Ma la c'è. Ma l'hai preso. Ma. Ma l'hai preso. Ma. Ma l'hai preso. E dopo che fai. e poi metto a bollere, metto a bollere per un po' quando la bollere, cosa funziona sempre con la tanda? una volta che la tanda metto il colador al colador, la suggera di un minuto e poi dopo o al freddo, poi mi ha fatto che cosa? la ricetta le dice che al freddo il volo freddo con il nome del nome di me invece è freddo il corso e poi, che al freddo mai subito con due grandi gli occhi a perna per la tega e al freddo lo metto il nome, però è bella freddo ah non so, cosa è la ricetta? la ricetta è una... una signora marciana una cosa che si fa qui in tutta Boulogna che si fa solo con ai usmri e mezze non è grosso, mezze che si fa due mezze tra la salina e la rosa e poi ci si fa solo con i miei occhi e poi ci si fa solo con i miei occhi e poi ci si fa solo con i miei occhi e poi ci si trova quasi da parte di molto pietanza come dire, la salomonia? lei è la salomonia come la la salomonia non è leggerla ma bisogna ci prenderlo nel momento bisogna ci prenderli nel momento perché è facile per mettere i miei occhi e in ultimo, per mettere il nome di un grande tempo che vuole e freddo se pensi Sehr ndro mette la pappa rossa olio di gramo stein l'olio di gramo stein l'olio di gramo stein in italiano è olio di vinacciuoli di vinacciuoli e di vigna in dualcate ah lo scatto ma che scatto iscriviti al mondo se oye no no oh Grazie a tutti. Grazie a tutti.